la tua prima volta dietro la macchina da presa per questo genere di film vorrei chiederti l'aspetto più difficile l'aspetto più simpatico divertente allora è stato divertentissimo in generale molto complicato soprattutto la difficoltà è armonizzare i vari linguaggi che compongono il musical cosa a cui io appunto diciamo ero vergine e la cosa più difficile beh forse entrare uscire delle canzoni cioè trovare stare sempre attenti a come si si leghi la parte recitata la parte cantata e anche a fare attenzione che nella parte cantata si mantenga l'intenzione attoriale che c'è che c'è nella parte recitata cioè che l'attore non deve quando canta improvvisamente diventare un cantante deve rimanere un attore e stare dentro il personaggio quindi bisogna sempre ricordargli che non sta facendo un'altra cosa nel musical è semplicemente un livello diciamo di linguaggio una convenzione il fatto che lui stia cantando ma realtà è come se parlasse come è stato ritrovare Michele Riondino nuovamente sul sul set per la seconda volta è bello perché lo stimo tanto e è stato divertente fargli fare una cosa diversa e quindi insomma è stato è stato divertente forse è stato anche aiuto anche è stato anche utile il fatto che lui abbia fatto il film precedente con me perché si fidava di me e quindi forse anche per questo ha aderito a un progetto così rischioso in un certo senso per un attore quello di cantare ballare recitare insomma non è non è una cosa nel mondo anglosassone è normalissimo da noi è una cosa un po strana una delle canzoni che mi piace di più che sono anche nel film che è anche nel film e non è francesca è una canzone che amo molto e nella versione originale nel film è stata riarrangiata come un tango nella versione originale di battisti mi piace tanto quella seconda parte strumentale un po psichedelica che c'è che insomma metteva in evidenza del grandissimo talento di battisti come compositore saluta dire giovani penso che questo film possa piacere anche le nuove generazioni e non solo le persone nostalgiche nei confronti battisti e mogol anche perché le canzoni di battisti e mogol sono diciamo abbastanza universali quindi non sono sono ancora amate e suonate anche da voi giovani